Tre anni fa gli attentati terroristici a Parigi, allo Stade France, al Bataclan e in altri locali del centro, lo ricorderete, con memorazioni in tutta la città per ricordare le 130 vittime e gli oltre 350 feriti di quella notte di sangue. Un corteo ha attraversato le brasserie e i caffè colpiti per concludersi davanti alla sala concerti di Boulevard Voltaire. Alla cerimonia erano presenti il premier Philippe, la sindaca Hidalgo e i rappresentanti di diversi paesi. Sulla strage è ancora aperta un'inchiesta, sei le persone in carcere in Francia, quattro in Belgio.